Eschiera a tutti da Moxie e ben ritrovati qui con noi su HMC Magic Masters. Dato che le top per costi di mana vi piacciono particolarmente, oggi continuiamo questa serie ma cambiamo soggetto. Parliamo di artefatti a costo 1 e per la precisione di artefatti colorless. Queste carte sono molto vantaggiose perché in quanto colorless possono essere inserite in qualunque mazzo. Ma appunto per questo, quali sono le migliori di Magic the Gathering? Di tutte le top che ho fatto penso che questa sia stata la più difficile in assoluto da classificare. Come al solito sono state messe in ordine a seconda del mio gusto personale, sicuramente ci saranno altre carte che non ho inserito che magari avrebbero meritato un posto in questa classifica per cui non offendetevi se non ho messo la vostra carta preferita. Inoltre se questa serie vi piace e vorreste vedere magari una parte 2 sugli artefatti direi di far arrivare questo video a 80 like. La prima carta che incontriamo è la Lanterna della Perspicacia. Fa giocare tutti i giocatori con la prima carta del Grimorio rivelata e tappandola e sacrificandola un giocatore a bersaglio rimescola il proprio mazzo. È una carta che in generale crea molto panico e molto caos, quindi sicuramente un posto lo meritava proprio per la sua imprevedibilità, per il suo change of situation. Qualcuno si ricorderà anche il mazzo Lantern Control in Modern, che era un mazzo che andava di moda qualche anno fa, che era stato portato alla ribalta al GP di Oklahoma City nel 2015 da Zach Helsic, che stava giocando in finale contro BBD con Twin, che all'epoca era il mazzo quello che tutti avevano, il mazzo che vinceva. Mi ricordo che io stavo guardando la stream in diretta di questo GP e a un certo punto BBD non sapeva più che cosa si stava trovando contro, perché questo qua ha iniziato a fare cose con sta Lanterna ed era un mazzo completamente imprevedibile. Della serie che io sono venuto qui con il mazzo del momento, so chi giocherà a cose e come lo giocherà, e mi trovo questo tizio davanti con sta Lanterna, ma che cosa fa sta Lanterna? Infatti la faccia di BBD quando il nostro amico Zach ha vinto il GP è stata divertentissima, perché appunto è un mazzo imprevedibile. BBD era scioccato. Se la Lanterna è riuscita a scioccare BBD, vuoi che non la mettiamo in questa classifica su HMC Magic Masters? La carta successiva è una carta famosissima, presente tipo nel 90% delle side mondiali di tutti i mazzi del mondo. Reliquia del progenitus. La conosciamo benissimo tutti, la tappiamo, un giocatore esilia una carta dal cimitero, invece paghiamo uno, la sacrifichiamo, esiliamo tutti i cimiteri e peschiamo una carta. A inizio game è fortissima, perché comunque ci permette di far esiliare roba dal cimitero della gente, subito, all'inizio della partita. Sono d'accordo che non siamo noi a scegliere che cosa il nostro avversario esilierà, ma dai una volta, dai un'altra, vedi che poi il cimitero si sfoltisce. Anche in mid e in late game è molto interessante, perché esilia tutti i cimiteri di botto e ci fa comunque pescare, ci porta avanti a giocarte. E sappiamo benissimo noi che siamo esperti giocatori di Magic, che togliere tutti i cimiteri e pescare una carta in più è la base per portarsi avanti in questo gioco, soprattutto in certi formati. Proseguiamo con Nino del viaggiatore, una carta che è un tributo a Mitch di Commander's Quarter che mette questa carta tipo in tutte, tutte, tutte le decklist che lui crea. Ma ci sta, perché comunque è una carta molto, molto interessante e utile per fixarci il mana. Perché pagando due, tappandola, sacrificandola, ci fa cercare nel mazzo una landa base, ce la fa mettere tappata in campo e poi ci fa rimischiare il grimorio, chiaramente. Quindi un ottimo, ottimissimo drop a uno che a turno due ci permette di fixarci il mana se nel caso ci dovesse essere bisogno di farlo. E avere il mana fixato a inizio partita, ragazzi, non serve che ve lo dica io, è una sicurezza. Ma andiamo avanti senza paura e senza indugio e troviamo Mola. È una carta molto, molto, molto combosa. Non peraltro è stata inserita da Omega nel suo ultimo video sulle combo da due carte. Se non lo avete visto, andate subito a farlo, mi raccomando. Cosa fa la nostra amica Mola? Pagando tre, tappandola, fa macinare due carte a un giocatore bersaglio. Se queste due carte condividevano un colore, ripetiamo il processo. E come diceva giustamente Omega nel suo video, in combo con il Painter Servant, facciamo macinare il mazzo a un giocatore. Cioè, ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? Di cosa stiamo parlando? Ma andiamo avanti con la prossima carta, che è Gabbia del Becchino. Un artefattino simpatico a costo 1, e lo sottolineo perché vi ricordo che tutti questi artefatti sono a costo 1. Un artefatto, dicevo, che blocca una miliardata di mazzi. Perché? Perché ci dice che le creature non possono entrare dai cimiteri o dai grimori. E che i giocatori non possono lanciare magie dai cimiteri e dai grimori. Quindi tutte quelle cose con flashback, tutte le cose che si rianimano, robe che dicono, boh, se ce l'hai nel mazzo lo lanci. Puffe sparite. Parliamo adesso di una carta che è la base di molti, moltissimi mazzi, sia Modern che Legacy che Vintage da sempre, più o meno. La griglia, The Rack. Quando entra nel campo di battaglia, scegliamo un avversario. All'inizio del mantenimento di quel giocatore, la griglia, infligge X danni a quel giocatore. Dove X è 3 meno il numero di carte che quel giocatore ha in mano. Dove la troviamo inserita questa carta? In quali mazzi? La troviamo ovunque, in Mono Black, in Small Pox. The Rack è giocata dappertutto. Ho trovato una chicca, ragazzi, mamma mia, che si collega all'ultimo video top di Creatura a Costo 2 Miglior di Magic, perché nel 2007 qualcuno ha giocato Tarmorack. Vi dicevo appunto in quel video che il Tarmorack era giocato dappertutto solo perché sì. Ecco, qualcuno nel 2007 ha giocato Tarmorack. Tarmorack! Troviamo adesso una carta con cui ho dei trascorsi. Fiala eterea. Come ben sapete, o se non lo sapete ve lo dico, io gioco Death in Taxis da Modern e la fiala eterea è la base di Death in Taxis. In realtà è giocata in qualunque mazzo da Goblin a Death in Taxis, Yorion in Taxis, Zombie. Qualunque mazzo che possa giocare delle creature, una fiala eterea ci sta bene dentro, mettiamocela. Perché al nostro mantenimento possiamo scegliere se mettere un segnalino sulla fiala. Tappando la fiala mettiamo poi sul campo di battaglia una creatura con costo di mana convertito pari al numero di segnalini che ci sono sulla fiala. Cosa significa tutto ciò? Noi tappiamo e mettiamo in campo, quindi nessuno ci può dire Ah, ti countero la talia! No, no, la talia non me la counteri! Quindi rendiamo incounterabili le nostre creature e possiamo giocarle a instant. Logico, dobbiamo essere sicuri che quello che vogliamo giocare abbia il costo di mana pari ai segnalini della fiala, per cui è sempre meglio avere più fiale in campo caricate con un tot di segnalini diversi. Il mio trascorso qual è, piccolo fan fact, io in Death in Taxis non pesco mai la fiala. Mai, mai! Oppure la pesco tipo a turno 15? Che dici, mo che cacchio me ne faccio della fiala a turno 15? Altra carta che è stata base di un mazzo amuleto del vigore. Quando un permanente ci entra tappato nel campo di battaglia, lui ce lo fa stappare. Quindi con le bounce land, con i triomi, è fenomenale. Ovviamente il mazzo di cui stavo parlando è Amulet Titan, un mazzo che qualche anno fa era veramente uno dei più forti. E adesso ho visto che hanno rivisitato qualche lista e sta pian pianino tornando alla ribalta. Parliamo adesso di un equipaggiamento molto molto interessante, Lancia delle Tenebre. La creatura equipaggiata prende più uno più uno, travolgere e legame vitale. Pagando uno, le creature dei nostri avversari perdono antimalocchio e indistruttibile. E qui che vi voglio ragazzi, perché far perdere antimalocchio e indistruttibile credo sia una cosa fuori di testa. Così possiamo togliere tutto quello che pensavamo essere intoglibile. E dà speranza a una partita che sembrava persa e intresa di sconforto. Passiamo ora ad una carta famosissima. Ago spinale, pitting needle. Quando entra, scegliamo il nome di una carta, le abilità attivate di quella carta non possono essere attivate a meno che non siano abilità di mana. Il che vuol dire che blocca N cose. È una carta famosissima, fortissima in tutti i formati, specialmente in commander. È stra 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 usata, ma è usata anche in moltissime side, in mazzi moderni, in mazzi legacy. È una carta però che vuole da parte nostra una grande conoscenza dei mazzi di magic. Perché dobbiamo essere sicuri per ogni mazzo che ci si presenta di individuare la carta giusta da nominare compiti in needle. È forte a prescindere per carità, ma se da parte nostra c'è una base di conoscenza solida, la sua value aumenta all'impazzata. Andiamo avanti e troviamo un altro equipaggiamento. Morsa cerebrale, skull clamp. Anche lei è stata usata e stravista ovunque. Perché sì. La creatura equipaggiata prende più uno, meno uno. Quando la creatura equipaggiata muore, peschiamo una carta. Immaginatela in un mazzo che può essere, non lo so, Topter Foundry e Swords of the Meek. Perché non dovrei voler sacrificare una pedina e pescarmi due carte? Pedina, skull clamp. Oh, pedina muore, pesco due. Pedina, skull clamp. Oh, pedina muore, pesco due. Che meraviglia ragazzi, che meraviglia. Ora vi faccio una domanda. Pensate a quel drop a 1 artefatto che in Commander volete vedere a turno 1. Anello solare, soul ring. Devo stare a spiegarvi cosa fa? Lo tappiamo, ci aggiunge due mani in colori. A turno 1, in Commander, tutti lo vogliono. Se voi malauguratamente partite con terra soul ring, io scommetto che il vostro avversario vi dirà qualcosa come Eh, vabbè, di nuovo, va, il solito sculato. Perché lui? Perché lui non ce l'ha? Perché partire a fare terra soul ring è un next level, è un'abilità, è una cosa in più e tanta roba. E che cosa, sempre in Commander, a turno 1, vi fa odiare dalla gente anche del negozio di fianco? Mana Vault, forziere del Mana. Il nostro forziere non stappa al nostro Untap Step. Lo stappiamo al nostro mantenimento pagando 4. E se alla nostra fase di acquisizione la Mana Vault è tappata, ci infligge un danno. La tappiamo e ci aggiunge 3 mana in colore. Sì, c'è questa piccola pecca che devi appunto pagare 4 per poterla stappare, ma insomma, credo che sia una cosa risolvibile, possiamo passarci sopra. In più in mid e in late game diventa, insomma, una gran bella carta, soprattutto perché va in combo con tante tante cose. Mana Vault per tutti ragazzi, Mana Vault per tutti. Aggiungetela nei vostri mazzi, da oggi, su questi schermi. Ridendo e scherzando e parlando di artefatti, non ci siamo resi conto che siamo già alla seconda posizione. Candelabra of Taunos. Il nostro amico candelabro si rivolge a coloro che amano le ingenti quantità di mana, perché semplicemente pagando X, tappando il candelabro, stappiamo X lande. Devo aggiungere altro? Vi serve che io dica altro? Senza parlare del fatto che ha un grande valore storico. Immaginatelo poi in situazioni del tipo Oh, guarda, ho delle lande che danno Mana Doppio. Che bellezza! Siamo arrivati ragazzi alla posizione numero 1. Ovviamente diteci qua sotto nei commenti se voi avreste messo qualcos'altro a questa posizione o in altre posizioni e fateci sapere cosa ne pensate delle nostre scelte. Che carta potrà mai esserci in prima posizione? Sempre pensando che tipo di gioco è Magic, quindi un gioco che ti deve portare in vantaggio rispetto a qualcun altro. Pescate, conoscenze del mazzo, K delle profezie del Sensei. Paghiamo 1, guardiamo le prime 3 carte del nostro Grimorio e le rimettiamo nell'ordine che vogliamo noi. Tappiamo la K, peschiamo una carta e mettiamo la K in cima al nostro Grimorio. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi avremo sempre il controllo delle nostre pescate e sapremo sempre cosa pescheremo, quando lo pescheremo, perché lo sceglieremo noi, guardando costantemente. E soprattutto ci sarà sempre qualcuno che dirà Mo basta sta K, ha rotto le balle, te la distruggo. E no, perché noi la tappiamo, peschiamo, peschiamo la carta che noi volevamo pescare e rimettiamo la K in cima al nostro Grimorio. Per cui il turno dopo ripescheremo K e il giochino ritornerà da zero. Voi ditemi se questa carta non merita la prima posizione di questa classifica. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che le carte vi siano piaciute. Fateci sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Non dimenticatevi di lasciarci un bel like e di iscrivervi se ancora non l'avete fatto. Se volete seguirci su tutti i nostri social e continuare a supportarci anche lì, vi ricordo che qui sotto in descrizione troverete un link unico che vi porterà appunto a tutte le nostre pagine social. Voglio anche dedicare un grazie speciale a tutte le persone che con le donazioni supportano tutto questo ancora di più. Ciao dalla vostra Moxi, alla prossima!